Bene, eccoci insieme anche oggi. Quando possiamo amiamo presentare eccellenze del territorio, in questo caso è veramente un'eccellenza del territorio, perché parliamo di un'azienda agricola, azienda agricola Nonno Andrea di Villorba, provincia di Treviso, 4 milioni di fatturato all'anno, una quarantina di dipendenti. Con noi c'è Paolo Mazzan che è il contitolare insieme alla moglie e dal figlio. Partirei da un dato, lei è figlio di una famiglia di agricoltori, la sua signora anche, siete quindi la terza, la quarta generazione. Quello che vi differenzia è il fatto di saper valorizzare in maniera diversa il prodotto, tant'è che qua ne vediamo una ampia referenza. Voi avete 60 ettari. Sì, sì, abbiamo 60 ettari in biologico e certificati bio. Sì, è vero, col passare delle varie generazioni in qualche modo cerchiamo di ottimizzare, di capire quali sono le tendenze anche del momento, quali sono i bisogni e le tendenze del momento. I bisogni perché il cliente, il consumatore ama sempre di più un certo tipo di prodotto piuttosto che un altro, un prodotto pronto piuttosto che da preparare, un prodotto più sano, più salubre e quindi cerchiamo di capire quali sono appunto i vari passaggi che si interpongono tra una generazione e l'altra e cercare di essere attuali. Sì, insomma. Ecco, fatto salvo che la qualità del prodotto è la base di tutto, secondo lei oggi sul mercato quant'è la percentuale del prodotto e quanto quella del packaging in termini di valore? Io credo che comunque il prodotto abbia sempre un 80% di valore perché sempre di più appunto il consumatore è attento a quello che mangia all'interno di quello che mangia, poi compra anche con gli occhi, è chiaro. Però, da quella poca esperienza che ho, insomma, penso che uno sappia degustare, conosce i gusti, è sempre più attento, c'è tanta informazione per quanto riguarda il cibo e questa è una bella cosa perché si parla di informazione sia sulla qualità organolettiche, sia anche sulla bontà, ma anche sulla solubrità di quello che si va a mangiare, insomma. Ecco, e quindi attenzione particolare a quello che si mangia, 80% o 20% packaging. Voi siete un'azienda bio e dico bio volutamente perché non siete solo un'azienda biologica, ma siete un'azienda attenta alla biodiversità. Ci declina questo termine per quanto riguarda la sua attività? Sono concetti paralleli. Su uno stiamo attenti a non usare prodotti di origine, parliamo del biologico, di origine sintetica. Quindi per avere appunto la certificazione biologica si devono usare prodotti di origine naturale. Un concetto diverso invece è avere una certificazione Biodiversity Friend come ce l'abbiamo noi perché in questo caso, sempre utilizzando prodotti di origine naturale per la concimazione, per la difesa delle culture, andiamo a attuare tutti quegli atteggiamenti utili per aumentare la biodiversità che c'è nel nostro territorio. La biodiversità è la biodiversità terrestre, gli animali che la compongono, quelli che si vedono ad occhio nudo e quelli che non si vedono ad occhio nudo. La biodiversità appunto è flora, quindi varie piante diverse, magari anche antiche per preservare quello che avevamo una volta e per portarlo ai nostri figli. E poi la biodiversità per quanto riguarda l'energia, cioè quindi stare attenti che l'energia che noi consumiamo non vada a depauperare la biodiversità terrestre. E poi anche l'aria e l'acqua sono due elementi altrettanto fondamentali che si possono comunque misurare, misurare il grado di naturalità che c'è in questi due elementi fondamentali. Visto che ho parlato di certificazione, mi fa piacere ricordare che ci sono anche in questo caso due eccellenze che vi certificano, due eccellenze venete, che sono il CSQA che sede a Tiene, nel Vicentino, e la World Biodiversity Association, a sede a Verona. Sì, per quanto riguarda la biodiversità, invece Valor Italia per quanto riguarda la certificazione bio. Detto tutto ciò, nella biodiversità voi fate rientrare anche gli arredamenti, i materiali con cui avete costruito alcune parti. Bravissimo, bravissimo. Un'attenzione particolare perché cerchiamo di evitare l'utilizzo delle plastiche, cerchiamo di... L'idea nostra è quella che nei prossimi anni a venire, soprattutto entro il 2020, ma di essere plastic free, sia nei nostri imballaggi, e sia nell'utilizzo poi nel negozio, nell'utilizzo del magazzino, in laboratorio, eccetera. Quindi bandire l'utilizzo della plastica il più possibile perché è un elemento che tutti sappiamo molto inquinante, insomma, ecco, se non utilizzato correttamente. Si parla anche di rigenerazione della plastica, però appunto pensiamo che meno ne usiamo, meglio stiamo. Ci sono tanti elementi, tipo la carta e il cartone, tutti i film biodegradabili in commercio che si trovano ultimamente e che in qualche modo stanno riducendosi anche di costo, per cui crediamo sia meglio utilizzare questi elementi qua piuttosto che la plastica. Abbiamo messo al centro il radicchio, è solo perché è un prodotto di stagione o in qualche maniera il vostro re? Bravo, bravissimo. È il nostro re perché noi ne coltiviamo tantissimo, ne facciamo circa 1500 quintali all'anno, no? Poi, tra l'altro, siamo molto attenti anche a questo. Oltre a essere biologico, noi siamo iscritti anche al consorzio di tutela del radicchio di Treviso IGP, quindi quando proponiamo il radicchio di Treviso proponiamo l'originale certificato appunto dal consorzio. Quando si parla di agricoltura ovviamente il primo riferimento è la naturalità del prodotto. Voi però fate anche ricerca, nel senso che gli abbinamenti sono sfiziosi. Chi è il genio del gruppo? Eh, mia moglie. Diciamo che il nostro, cioè la nostra, la nostra famiglia è ben assortita, c'è la forza del figlio, c'è la genialità di mia moglie e poi c'è un po' di esperienza mia, ma insomma, non lasciamo stare. Un abbinamento radicchio-arancia, per esempio. Sì, sì, sì. Mia moglie che ama molto questi gusti un po' particolari e cerca di abbinare cose magari anche insolite per dare più sfiziosità, come ha detto lei, al consumatore. È questo che fa anche un po' la differenza. Per questo prima parlavo. È importante anche il gusto, insomma. È importante mangiare bene. Ecco, io prendo questo, che sembra un succo di frutta, in realtà non è tale. È un ketchup. Ne avete di due o tre tipi, mi pare. Sì, sì, sì. Ketchup. Ecco, dei prodotti particolari. Lo chiamiamo ketchup perché così uno capisce. Infatti volevo contestarvi un po' il termine. Bravissimo. Non esiste però, credo, la traduzione italiana. Esatto. Abbiamo cercato un po' di far capire al consumatore un equivalente, però per capire che c'è il gusto del ketchup e l'utilizzo classico del ketchup, però parliamo in salsa trevigiana, no? Perché... Il ketchup viola, arancione e rosso. Il ketchup viola. Il ketchup viola è il ketchup proprio fatto con radicchio di treviso, fruttato, perché c'è dentro anche un po' di prugna. Poi abbiamo il ketchup dell'ortolano, per dire, fatto proprio con elementi naturali, tipo il sedano, la carota e il pomodoro. Abbiamo anche quello con la zucca. Il ketchup per i bambini, io vado a definirlo perché è un po' più dolce. Parliamo sempre del classico utilizzo con i vari piatti, sopra un buster, sopra le patatine, sopra un hamburger, un panino, accompagnando anche delle carni importanti. E da finire il ketchup per gli adulti, che è il ketchup verde con il peperoncino e il pomodoro verde. Quindi noi adulti andiamo a mangiare cibi piuttosto, ecco, strong. Uno dei vostri prodotti risponde anche a un progetto di solidarietà. Sì. Allora, noi facciamo anche con le nostre nocciole delle nocciolate, sia al latte sia vegane. E abbiamo fatto questo accordo con una Onlus, oltre il labirinto, è una Onlus che segue appunto ragazzi autistici. e in qualche modo riusciamo a essere presenti nelle loro attività quotidiane, cosa? Facendo fare piccoli lavoretti che per loro sono molto importanti, tipo etichettare un prodotto. Un ragazzo autistico ci mette qualche minuto a etichettare un prodotto, però gli crea una gioia veramente infinita. Perché si sente utile, si sente parte di una società che attenta anche ai loro bisogni. Senza contare che poi c'è anche una percentuale che gli va proprio per aiutare questi, una percentuale in euro, chiaramente, che va donata proprio per aiutare a continuare tutti questi progetti qua e a continuare anche quello che può essere un modo nuovo per essere presenti nel mondo delle Onlus e nel mondo della disabilità. Se non ho capito male, prima presentandomi questo progetto, lei ha preso il baratto. Sì, eccolo qua. E mi ha detto, orgogliosamente imperfetto. Sì, le perfette imperfezioni nell'etichettatura. Perché... È bellissimo. Come vediamo, magari l'etichetta non è stata messa correttamente, proprio perché è stata messa da un ragazzo autistico, ma che ci mette moltissimo impegno ed è bellissimo vedere questi ragazzi, mentre stanno lavorando, chiaramente aiutati dai collaboratori e dagli insegnanti, insomma, che ci sono lì, però ci mettono tutta la loro forza, la loro volontà, la loro passione. Ed è qualcosa che mi riempie il cuore, che penso che riempie il cuore a tantissime persone, sapendo il sapere che questi ragazzi qua hanno delle opportunità di essere portati al pari di altri ragazzi che purtroppo hanno avuto magari più fortuna di loro. Per concludere, io sono sempre affascinato veramente dalla genialità degli imprenditori. e prenderei questo, perché questo non l'avevo mai vista. Questa sarebbe una bomboniera. Sì, infatti, utilizziamo sempre, utilizzando materiali riciclabili, carta, cartone, eccetera, abbiamo fatto tutta una linea di packaging diversi, questo non è solo un esempio, perché... Questo è per Ludovica. Eh, vabbè, questo è un nome di fantasia, diciamo, no, tanto per presentare, e quindi perché non regalare nelle nostre ricorrenze, che è il battesimo, la comunione, la cresima, il matrimonio, o per chi è più fortunato anche le nozze d'oro, eccetera, no? Perché non regalare qualcosa che può essere degustato, quindi non viene buttato via, perché effettivamente è utile, e in una confezione che salvaguarda l'ambiente, ma che è anche qualcosa di originale, di diverso, insomma, ecco, di sfizioso. Sì, certo. Ecco, così. Allora abbiamo fatto tutta questa linea qua, abbiamo fatto anche delle fiere sposi, piuttosto che... Vediamo che questa cosa funziona tantissimo, perché è qualcosa di alternativo alla classica bomboniera, che magari viene messa lì e qualcuno magari la riporta sopra quando il parente viene a trovarlo, perché succede spesso così, no? Invece qua, una volta mangiata, viene apprezzata e poi... Per concludere con un sorriso, io l'ho aperta e ci sono ovviamente i vostri prodotti all'interno. Ci mettiamo anche i confetti, all'occorrenza sì, ci mettiamo anche i confetti colorati, ecco, qui presa stamattina velocemente, magari mia moglie adesso mi dice, ma Paolo perché non hai messo i confetti? No, vabbè, era una battuta. No, no, ma ci metto anche le precisioni delle donne che osservano i particolari, mentre io magari così molto velocemente prendo e vado, però ci sono anche i confetti, sì. Faccio i complimenti a sua moglie, perché è veramente... Grazie, grazie mille. Devo dire, è innovativo anche il modo di proporre i prodotti della campagna. Grazie a Paolo Manzan, che ricordo di essere contitolare appunto con la signora Edilfiglio dell'azienda agricola Nonno Andrea di Villorba, provincia di Treviso, quanto mai un'eccellenza del nostro territorio. Grazie. Buon lavoro, a voi alla prossima. Grazie. Grazie a tutti.